Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come eseguire lo streaming delle repliche su Twitch dopo i recenti aggiornamenti. La prima cosa da fare è andare nella vostra nuova interfaccia gestore streaming, quindi andate nel canale, poi qui cliccate su gestore streaming e vi trovate in questa posizione. Cliccate su più e aggiungete avvia una replica, quindi trovate avvia una replica qui, io già l'ho aggiunta e cliccate su aggiungi per inserire questo pulsante. Poi andate su qui, andate su contenuti, video producer, scegliete il video che volete aggiungere alla replica, potete naturalmente aggiungerne tanti, quindi clicchiamo qui, aggiungi coda delle repliche. Quindi io faccio un esempio, voglio questo e questo, ad esempio, no? Aggiungi coda delle repliche, coda delle repliche. Adesso quando torno su gestore streaming e vado qui, me le ritrovo qui. Quindi posso spostarle, posso cancellarle e cliccare su avvia replica. In questo modo quando il canale è offline, andranno in riproduzione tutte le repliche da me scelte. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi esigenza non esitate a lasciare un commento.